Anna Pettinelli, ormai un'amica di Tennis & Friends, come vedo prontissima già per giocare? Prontissima non lo so, perché qui si va avanti il pomeriggio tranquilli, si chiacchiera, si mangia una cosa, quindi è un happening. Poi giocare è una scusa per richiamare un po' di attenzione sulla prevenzione, che è la cosa più importante del Tennis & Friends. Prevenzione sulla tiroide, quest'anno anche sulla glicemia e anche colesterolo, insomma, molta prevenzione. Tu la farai o l'è già fatta? Non l'ho ancora fatta, ma la faccio sicuramente, la faccio come routine nella mia vita, ma insomma, perché non darci una controllata anche qua, quindi sicuramente. Cosa ne pensi appunto di questo binomio sport e salute? Che è importantissimo, se noi riuscissimo a farne di più di manifestazioni del genere, parlerò con Mene Schinkery e vediamo se un paio di volte l'anno, una è poca. Insomma, però è una cosa grande ed è a quello che so la cosa più importante che si fa. Perché ci sono persone che ci credono, perché si impegnano, perché ci sono i volontari, insomma, siccome non arrivano aiuti da altre parti, questa è l'unica maniera. Grazie mille. Ciao. Ciao!